Tre casi arrivati sul Tribunale di Pesaro rischiano di fare giurisprudenza. Il giudice del lavoro Maurizio Paganelli ha infatti accolto i ricorsi di tre docenti di scuole elementari e medie sospesi dall'insegnamento in quanto refrattari all'obbligo vaccinale anti-covid previsto per essere in cattedra. Il giudice ha dato però ragione ai tre docenti e ha disposto pure che il Ministero dell'Istruzione pagasse loro le mensilità saltate. Tre casi particolari difesi dall'avvocato Pia Perricci. Dei tre docenti, una infatti era a casa per infortunio, uno era in malattia e un'altra aveva ottenuto un congedo per assistere un parente. I tre non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale ed è arrivata a loro la sospensione dall'insegnamento nonostante non fossero rientrati in aula per motivi certificati. Motivi che sono stati alla base della vittoria della causa e dell'annesso risarcimento. Secondo il giudice, infatti, se non entravano in aula per le suddette indisposizioni, decadeva anche l'obbligo vaccinale. Oggi tutti e tre gli insegnanti sono tornati in cattedra senza aver fatto il vaccino.